gentili telespettatori buona giornata quest'anno per trovare il calmo non bisogna andare in africa in vacanza basta andare a rimini riccione alassio temperature tra i 18 e 20 gradi in tutta la riviera di ponente durante le festività potrà competere con il mar rosso burrasche a parte è il bello di questo clima pazzo che ormai ci ha abituati a un dicembre sempre più caldo di 5 6 gradi sopra la media stima bernardo gozzini ricercatore dell'istituto biometeorologia del cnr con medie a fine dicembre di 16 gradi in tutta la penisola e temperature anche più alte di 2 gradi rispetto al mese precedente è una stagione alla rovescia quella che stiamo vivendo con il solstizio d'inverno l'altro ieri accompagnato da forti venti di scirocco che hanno fatto nuovamente salire la marea a venezia con l'acqua alta di un metro e quaranta questa mattina dopo un metro e quaranta quattro centimetri di ieri pomeriggio è il fern che soffia sulle alpi è come se l'inverno non fosse ancora iniziato spiega il meteorologo e la causa sta in un vortice polare molto forte quell'area di bassa pressione che staziona sopra il polo impedendo alle correnti di aria fredda di scendere alle nostre latitudini se ne sono accorti anche a mosca dove nei giorni scorsi la colonnina ha raggiunto i 7 gradi sopra lo zero un record storico per la capitale russa che non ricordava un dicembre così caldo dal 1886 il freddo si è fermato nella penisola scandinava senza raggiungere la pianura sarmatica osserva gozzini il clima insolito ha confuso anche il bucaneve e il rododentro nell'orto botanico dell'università che sono fioriti facendo venire il malumore a molti moscoviti non abituati a un fine d'anno senza neve e sotto una pioggia tiepida e così a causa del vertice polare del vortice polare europeo sembra l'europa sembra spaccata in due con 17 gradi a marsiglia 4 gradi a varsavia e una gradiente di oltre 20 gradi nello stesso continente perché in assenza delle correnti provenienti dall'artico si sono fatte largo le correnti calde in arrivo dal Sahara che hanno investito in pieno tutta la penisola complice anche un anticiclone atlantico ecco perché da noi si sciolgono pure le piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite per consolare i bambini della mancata neve mentre in Lapponia oltre il circolo polare artico hanno registrato il dicembre più nevoso degli ultimi 80 anni su molte zone degli appennini in Toscana ad esempio peraltro non si è visto ancora un fiocco di neve ma in compenso è venuta già tanta pioggia quanta ne cade in sei mesi e anche questo rientra nel cambiamento climatico ma consoliamoci dopo Santo Stefano arriverà finalmente il freddo non basterà forse per sciare ma tenuto conto che l'Australia sta bruciando per la siccità non possiamo lamentarci di questo Natale io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito a riscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata